Sarà il nuovo Teatro della Pace che apre i battenti il prossimo 22 dicembre con un musical. È il rinnovato Teatro Pietro D'Abbano, aggiornato sui palchi e nel foyer, pronto ora con sale che potranno ospitare eventi teatrali e televisivi, concerti, sfilate di moda. Un teatro da 422 posti, una sala cinema con altri 100. La riapertura del Teatro Congressi Pietro D'Abbano rappresenta una grande opportunità per la nostra città. E' naturalmente una proposta culturale, quella di Isabella Biffi, di valore. Ci troviamo tutti nel teatro piccolo, il teatro intitolato Teatro da Esacui Cheda ed è intitolato Alla Pace. Una ripartenza densa di attese e aspettative, pronta ad una programmazione variegata. Dopo anni di chiusura si vuole che il teatro, più di un teatro, diventi il luogo della cultura dei colli nel quale tutti gli artisti possano esprimersi. Una creazione di valore è quello che è il nostro obiettivo, basando attraverso l'arte una grande trasformazione umana, ma anche di gioia e di divertimento. In cartellone sono già fissati i primi eventi, il musical What a Wonderful World, appuntamenti a cavallo tra febbraio e marzo dedicati al Festival di Sanremo e tributi ai grandi della musica italiana e internazionale.